Porta il nome di Antemis ed è il famoso liquore prodotto dai padri benedettini di Montevergine nella bazia del Loreto a Mercogliano. La ricetta risale alla metà dell'Ottocento. Il segreto del liquore sta in una ventina di erbe provenienti dalle montagne di Montevergine e di altre zone d'Italia. Di queste la più importante è l'artemisia. Dopo essere state raccolte le erbe vengono prima messe a seccare poi in infusione. Trascorsi 20-30 giorni si inizia la fase della distillazione. Segue l'aggiunta di sciroppo e alcol. A questo punto l'Antemis ancora grezzo finisce nelle botti dove riposa per almeno nove mesi. Solo successivamente si arriva alla fase finale, quella dell'imbottigliamento. Si tratta di un liquore forte nell'odore e nel sapore dall'alta gradazione alcolica ben 42 gradi. Oltre all'antemi, i simonaci producono anche il liquore del Partenio, che è quello più antico, poi il Romito e il Virginiano. Non mancano altri prodotti come l'anisetta e il Brandy, anche questi targati padri benedettini. Nella bazia vecchi strumenti di lavoro convivono con i moderni macchinari, così come anche la vendita con il tempo è cambiata, tanto che i liquori ora si possono acquistare anche online. I laboratori dell'abbazia sono stati aperti in occasione delle recenti giornate del FAI. In migliaia ne hanno approfittato per scoprire i segreti dell'Antemis e osservare da vicino quello che è ormai un antico rituale.